Senza entrare per ora nel merito delle scelte tecniche delle ricadute occupazionali e ambientali, la decisione da parte dell'ENI di interrompere la realizzazione della maxipiattaforma prezioso K dimostra ciò che sapevamo. L'azienda fa e disfa quello che vuole, secondo i propri esclusivi interessi economici e aziendali, soprattutto quando di fronte come interlocutori degli amministratori della stazza di Messinese e Siciliano. Lucio Greco di un'altra Gela non le manda a dire in merito all'incontro che si è registrato lunedì al mese sulla vertenza Gela. La verità è purtroppo più semplice di quanto si voglia far credere, dice Greco. L'ENI, attenta come sempre a tutte le dinamiche dei territori dove opera, sa bene che Gela di fatto non ha un'aggiunta degna di questo nome. L'ENI sa bene infatti che la nostra città è amministrata da un sindaco espulso dopo due mesi dal suo insedimento, dallo stesso movimento che lo aveva fatto eleggere, privandolo così di qualunque credibilità, legittimazione e autonovorezza politica. L'ENI sa anche bene che il vice sindaco a cui lo stesso Messinese ha delegato la gestione di questa importante e delicata trattativa è storicamente vicino all'azienda e non è quindi un interlocutore scomodo con cui è difficile dialogare. Lucio Greco si pone degli interrogativi, ma sindaco e vice sindaco sapevano qualcosa di questa decisione? Sono stati informati da tutti quei dirigenti che hanno incontrato in centinaia e centinaia di incontri? Hanno avuto sentore di ciò che boliva in pentola? A cosa sono serviti allora tutti quei viaggi fatti a Roma e strombazzati a destra e a manca come se si fosse conquistata la luna? Di fronte a ciò che si sta verificando e che continuerà a verificarsi tutti quanti di centro, di sinistra, di destra, tutti i sindacati, confederali e non, dobbiamo prendere coscienza di una triste verità. In un momento così delicato la nostra città non può essere guidata da un'amministrazione di questo livello, per giunta non rappresentativa di nessuna forza politica. La loro permanenza, chiude Greco, per motivi tattici può far comodo a qualcuno, per la città rappresenta invece un danno, un grave danno.